Parliamoci chiaro, quello che normalmente viene detto nel mondo della gemologia, in particolar modo dai professionisti, è spesso molto vago, fumoso e non arriva mai al dunque, per molti motivi. Io oggi vi voglio raccontare qual è il mio approccio e dirvi la mia verità rispetto al mondo del gemme. Mi fate tantissime domande, sempre nei social, da tantissimi punti di vista, ma una delle domande più frequenti è cosa devo studiare, quale corso di gemologia posso fare, come faccio a iniziare a lavorare nel mondo delle gemme? Ebbene, questa è una domanda veramente molto molto ricorrente, alla quale non c'è una singola risposta, per cui quello che posso cercare di dire per rispondere a questa domanda è dirvi che cosa è stato per me, che cosa io ho vissuto, qual è stato il mio percorso e qual è il modo in cui io approccio e interpreto il mondo delle gemme. Vedete, c'è una vastità di sfaccettature possibili, però io credo che si possano individuare due principali categorie di approccio a questo mondo. Uno è quello più istituzionale, più tradizionale, della gioielleria più classica, che possiamo identificare proprio per dare un input, un'immagine di riferimento nel classico anello tempestato di diamanti, il super collier, quello che si vede nelle grandi gioiellerie, nelle aste, nelle vetrine internazionali più importanti. E poi invece c'è un'altra parte di questo mondo, che è in realtà infinitamente più vasto, ma allo stesso modo molto meno mainstream e molto meno conosciuto, che è dato dall'insieme delle gemme naturali, anche molto rare, anche costose, ma anche piuttosto affrontabili dal punto di vista economico, che è di una vastità infinita. Il mio approccio, è quello che la mia natura mi ha portato ad essere, è stato sicuramente rivolto più a questo ambito, cioè all'ambito di quell'elemento naturale, di quella gemma, che ha un fascino incredibile, prima di avere un valore, per i suoi colori, per le sue venature, per le sue luci, per i suoi riflessi, per le sue caratteristiche di vera preziosità naturale, e preziosità badate non solo da un punto di vista economico. Se entri in questo ambito, ed è questo che è successo a me, entri in un universo che non ti stanca mai, e che continua a riservarti un'infinità di sorprese. Un universo per approcciare il quale è necessario avere anche dei livelli di conoscenza superiori, mi permetto di dire, perché ti impone di fronte a un mondo che è veramente amplissimo, dove non si è mai finito di imparare, ma dove le soddisfazioni, gli stimoli, gli input, sono veramente una cosa eccezionale, eccezionalmente ampia e veramente infinita. Quindi, nel momento in cui voi voleste approcciare al mondo delle gemme, secondo me dovete porvi una domanda, prima di tutto. Chi sono io? Quali sono le mie attitudini? Che cose desidero fare? Desidero essere il gemmologo perito del tribunale, o il gemmologo che è seduto in laboratorio otto ore al giorno davanti al microscopio, al rifrattometro e a vari strumenti per fare perizie certificati. O voglio immergermi invece in una dimensione molto più wild nel mondo delle gemme, andando a caccia di gemme per il mondo, nei limiti e nei confini che voi individuerete, per essere quasi fisicamente immerso proprio in una moltitudine soverchiante di stimoli. Dovete capire un po' qual è il vostro approccio, qual è la vostra vocazione, qual è il vostro interesse. Per me è stato subito chiaro che non mi interessava rimanere seduto in un laboratorio, questo non l'avrei mai potuto fare. Sicuramente mi affascinava il viaggio, la scoperta, mi affascinava moltissimo l'aspetto commerciale, cioè di poter capire veramente qual era l'origine del percorso di queste gemme presenti nel mercato, di andare a scoprirne di nuove e di veicolare attraverso queste esperienze questa mia conoscenza da un pubblico più ampio, perché io credo che ci sia una ricchezza veramente infinita, sottostimata e poco veicolata, poco comunicata, nell'universo sconfinato di gemme che potremmo definire secondarie, terziarie o insomma di livello minore, ma che in realtà nulla hanno di minore, anche perché in moltissimi casi ci sono delle pietre poco conosciute che sono oggettivamente così rare che se dovessimo valutarle rispetto alla loro rarità e bellezza e durevolezza dovrebbero avere prezzi molto molto più alti di gemme assolutamente conosciutissime. Solo che il mercato non le propone, il mercato non le propone perché questo richiederebbe da parte dei vari gioiellieri degli sforzi di ricerca e di conoscenza di livello molto superiore e dall'altro questi sforzi che dovrebbero fare gli operatori non sono stimolati da una domanda così sostenuta perché il largo pubblico non le conosce e quindi è proprio un circolo vizioso che si rincorre, il famoso cane che si morde la coda perché da un lato non c'è molta domanda perché non c'è conoscenza, dall'altro non c'è proposta perché non c'è conoscenza e non c'è voglia di fare sforzi che economicamente non porterebbero a un ritorno. Ecco noi ci siamo infilati, io ho deciso di infilarmi proprio al centro di questo vortice per cercare di creare questo tipo di collegamento nei limiti molto scarsi se volete delle mie possibilità ma di andare all'origine e portare un qualcosa di nuovo, di diverso che in realtà è vecchio ma che per molti è assolutamente ignoto e da scoprire ed è completamente nuovo ed è questa un po' la missione che ha condotto sempre la mia passione personale per le gemme tradotta in un'attività lavorativa. Per questo sono successe moltissime cose, per questi i primi viaggi di cui vi ho parlato in altri video in India, a Hong Kong, in Thailandia, a Tucson che sono state delle vere e proprie avventure da pazzi ma che sono sempre state sostenute e guidate dal desiderio, da questo fuoco sacro, tra virgolette insomma con tutta l'umità del caso, di voler andare a mettere in luce, portare all'evidenza portare alla conoscenza e alla visione di un pubblico più ampio possibile un insieme preziosissimo di realtà naturali pregiate che non vengono proposte, non vengono veicolate e non vengono mostrate quanto meriterebbero e che ho potuto sperimentare nel tempo da parte delle persone che questo sforzo di approccio hanno fatto diventa una vera passione per molti, diventa veramente contagiosa, virale, ma non nel senso dei social, diventa un qualcosa che ti coglie, che ti prende, che ti trasporta e ti spinge a conoscere ed è una meraviglia costante. Quindi fate un attimo di riflessione da questo punto di vista perché se state guardando questo video vuol dire che un interesse in un qualche modo nel mondo delle gemme l'avete. Allora provate a pensare qual è il vostro interesse, qual è la vera scintilla, qual è l'elemento di partenza, il fuoco all'origine di questo vostro interesse. Vi è capitato, come immagino sia capitato a molti, di fare una passeggiata in montagna, al mare, di vedere un sasso particolare con una luce particolare o anche solamente una conchiglia o un pezzo di legno o qualcosa e dire, caspita, questo è bellissimo, me lo voglio portare a casa. Perché io credo che la scintilla più profonda per la vera passione nel mondo delle gemme venga proprio da lì, venga da questa capacità di stupirsi di un qualcosa che è lì, è naturale, non è creato dall'uomo e ha un fascino straordinario. Lo posso trasformare, lo posso far diventare un qualcosa che condivide la mia quotidianità, che posso indossare, che è bello, che contribuisce anche a un'estetica, ma che mi dà una soddisfazione straordinaria perché è originale, perché è naturale, perché è il frutto di una scoperta, di una conoscenza che ha un valore e ha un valore molto significativo. Il mio approccio al mondo delle gemme è questo, è quello che da 30 anni faccio come lavoro, in un qualche modo è sempre stato guidato da questo spirito e da questa energia, che mi ha portato sicuramente lontano dalle convenzioni più classiche del mondo della gioielleria, infatti insomma per chi ci conosce le nostre linee di gioielli, il nostro approccio non è quello della gioielleria classica, ma è proprio l'approccio che parte dalla gemma come creazione meravigliosa di natura che possa diventare anche in semplicità motivo di soddisfazione, di estetica, di bellezza, di gratificazione nella quotidianità. E questo è il mondo che vorrei sempre di più condividere con voi e che mi piacerebbe potesse in qualche modo diventare anche un pezzettino di voi se condividete questa passione per le pietre. Insomma spero che questo sproloquio a cuore aperto sul mondo delle gemme, il mio approccio al mondo delle gemme possa essere di vostro gradimento, mi raccomando iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima.